Si infiamma la lotta playoff nel girone F di Serie D. Le vittorie nei rispettivi recuperi hanno dato la carica all'Aquila, che ora è quinta, e Pineto, che dista solo un punto. E domani entrambe proveranno a dare seguito a questi successi. Gran gara quella del Gran Sasso d'Italia Italo a Concia, dove passano i destini anche del vertice della classifica. Nell'impianto del capoluogo sarà di scena un Matelica che tenterà di difendere i soli due punti di vantaggio che ha da una vispesaro anch'essa attesa da una gara dura in casa dell'Agnonese. Per l'importante gara Battistini dovrebbe recuperare l'ex Boldrini, uscito malconcio mercoledì, per lui una contrattura in via di smaltimento. Il Pineto se la vedrà con una delle squadre più in crisi del campionato, il campo basso, riduce da quattro stop consecutivi. Tra i molisani mancheranno gli squalificati Danucci e Carcbo e il tecnico Foglia Manzillo, per necessità e per scelta, potrebbe cambiare il volto alla squadra, attingendo dalla Juniors. Il Pineto proverà ad approfittare delle difficoltà degli avversari e del clima di contestazione che si respira nel capoluogo molisano. A disposizione Pepe, ma la formazione non dovrebbe discostarsi troppo da quella che ha espugnato Fabriano, anche se fremme Farias decisivo in terra marchigiana dopo essere entrato. Unico derby su un neutro di Pineto, dove il San Nicolò attende l'Avezzano. La società terramana ha indetto la giornata bianca-azzurra, la squadra urgente necessità di punti per rendere più praticabile la strada salvezza, rosa praticamente al completo per il tecnico Montani, di contro un Avezzano che è a pochi passi dal centrare i play-off. Il tecnico Giampaolo dovrà rinunciare ancora a Fanti e Sbardella, al loro posto Lombardi e Tariuk, probabile forfè anche di Bisegna. Gara dal sapore play-off anche per la Vastese, attesa dalla trasferta di Castelfidardo. I marchigiani sono in lieve flessione, ma con una vittoria cercheranno di rilanciarsi nella lotta per il quinto posto. Nella Vastese formazione fatta per dieci undicesimi è solito dubbio in avanti, con una maglia a disposizione per uno tra tedesco, Bittaglie e Cherillo. Dal sito Vasporti, il centrocampista De Feo. Dobbiamo continuare così, perché nelle partite scorse, pure se andavamo a ricerca delle vittorie, l'episodio ci ha condannato un poco. Invece nelle ultime partite abbiamo lavorato in settimana sugli errori che avevamo fatto e con i tre punti di domenica siamo ripartiti. I nero stellati saranno di scena al Barbati di Pescina contro la San Giustese. Marchigiani ancora in corsa per i play-off, Pratolani a caccia di soddisfazioni per rendere meno amare l'imminente retrocessione. Test casalingo per il Francavilla, che se vuole restare in corsa per i play-off dovrà espugnare il tabù casalingo contro la Iesina. Al Valle Anzucca la vittoria manca da fine gennaio, torna a disposizione Mimmo Di Cecco. Sicuramente veniamo da una prestazione importante ammatelica, di questo siamo veramente molto contenti, però domani, come ho detto ai miei ragazzi, domani passa l'ultimo treno e dobbiamo assolutamente prenderlo, perché secondo me lo meritiamo, la squadra nonostante le varie problematiche che ha avuto ha sempre reagito bene e domani l'occasione è giusta per fare una bella partita e una bella vittoria che ci consente sicuramente di stare attaccato alla griglia dei play-off.